Ciao a tutti, siamo qui dal banchetto al TarantoComics. Sta venendo un sacco di gente e sono molto contenta. Carovigio, oggi sto qua e sto rimanendo contentissimo. Sta andando tutto bene, la giornata sto passando tranquillo e bene. Ciao a tutti, tutte e tutto. Stiamo qui al TarantoComics edizione primaverile del 2022. Stiamo qui con il nostro piccolo presidio, anche se è un pochettino più allargato, un po' più grande rispetto a quello che portiamo in Piazza Immacolata di solito il sabato pomeriggio. Abbiamo già avuto tante belle esperienze, tanti bei incontri con le amiche e gli amici, alleati. Tante persone stanno acquistando i gadget che ha realizzato Carmela. Vanno in quadro al pomo. Ci sono rettini, bracciali. Poi ci sono i portacchiavi che ha fatto Emanuele. Le penne, gli accendini. Siete tutti invitati a partecipare al Taranto Pride che si terrà al 23 luglio a Taranto, in Taranto città. Grazie.